Il Partito Pirata forse in Italia è un po' sconosciuto, ma in Europa è presente con lo stesso programma in ben 11 paesi europei. Abbiamo anche un sindaco pirata a Praga, puntiamo in Europa dei cittadini e non dei burocrati. Vogliamo liberare la conoscenza e permettere che i proventi dei diritti di autore vadano a chi effettivamente li produce e non alle corporation, ai grandi editori che invece li sfruttano. Grande attenzione anche ai disabili invisibili, le persone che non hanno rappresentanza politica e a cui vorremmo dare voce.